È chiaro che se verrà approvata dal Parlamento e dal referendum, che a questo punto sembra inevitabile, sarà necessaria una riforma della legge elettorale. La mia domanda è quale modello lei vede più adatto al premierato, se ritiene che ci sia una soglia minima per ottenere il premio di maggioranza che va fissata e se crede nell'abolizione delle liste bloccate, con la fedeltà alla posizione sempre espressa da Fratelli d'Italia a favore delle preferenze. Allora, guardi, qual è il modello di legge elettorale? E tra l'altro anche questa è una materia che probabilmente spetterebbe in via prioritaria al governo. Posso darle le due risposte precise che lei mi ha chiesto. La soglia ci deve essere per forza perché lì c'è una materia costituzionale che lei ricorda arriva già da vecchie sentenze della Corte Costituzionale che dice che per il premio di maggioranza ci vuole, e che in generale ci vuole un range che non sia troppo alto tra i voti che si prendono e le persone che si eleggono. E come lei sa io sono favorevolissima alle preferenze e quindi al ritorno delle preferenze l'abolizione delle liste bloccate. Lo sono sempre stato, sono stata l'unica che ha avuto il coraggio, lo dico anche a quelli che oggi ce lo spiegano, di portare in aula gli emendamenti, in tutte le leggi elettorali puntualmente proposte a sei mesi dal voto per tentare di apparecchiarsi il risultato delle elezioni non ha mai funzionato, però abbiamo avuto molte leggi elettorali che sono cambiate e in tutte queste leggi elettorali che sono cambiate o in tutte quelle in cui ho avuto la possibilità io ho presentato un emendamento per introdurre le preferenze che è stato puntualmente bocciato, quindi io sono assolutamente favorevole. Chiaramente poi bisogna valutare con il Parlamento quali sono gli altri partiti che sono favorevoli. Grazie. Livio Cipriano, Agenzia Nova. Buongiorno Presidente, buon anno.